Avere pane caldo, una vita di sadorna, senza luci, senza sprazi, senza corsa Nessuno che ti guarda, nessuno che ti chiede, nessuno che ti dà un appuntamento A che serve rimanere, a che serve progettare, a che serve solamente camminare Quando manca la parola, l'energia nell'attenzione, il gusto è semplice, privato di una gioia Allora si richiamerai, allora tu li sentirai Degli amici, degli amici, con le mani, con le facce Loro sanno sempre cosa dire, sanno cosa fare L'iniziativa che è partita dal comune di Urbino e che ha visto impegnata la cappella musicale E ci ha coinvolto, è stata soddisfacente Avere pane caldo, una vita di sadorna Senza luci, senza sprazi, senza corsa Grazie